La famiglia di Napoleone Bonaparte era originaria di San Mignato in provincia di Pisa e il generale francese il 29 giugno 1796 incontrò il canonico Filippo, suo anziano parente del ramo toscano della famiglia. Nell'anno dell'anniversario dei 200 anni dalla morte di Napoleone sono in programma nella città della Rocca una mostra e una rievocazione storica per ricordare il passaggio di Napoleone. La mostra si chiama Noi e Enne, Napoleone tra storia e memoria e verrà inaugurata proprio il 29 giugno nel museo del conservatorio di Santa Chiara. Allora era il 1796 in cui Napoleone arrivando per la prima volta in Italia volle andare nella sua a San Mignato a trovare il parente, il canonico Filippo che lo aveva aiutato, Napoleone aveva 10 anni, a San Mignato era andato il padre, per recuperare le patenti di nobiltà, i documenti fondamentali per entrare all'accademia militare di Brienne e poi diventare generale a 20 anni. Senza quei documenti Napoleone non sarebbe stato quello che è stato nella storia. La rievocazione storica in costume è dedicata all'incontro del 29 giugno 1796 tra Napoleone e il suo lontano parente Filippo ed è in programma sabato 10 luglio con un corteo composto da 20 figuranti a cavallo in costume e una carrozza con equipaggio su cui viaggerà il giovane Napoleone. San Mignato, la città dei Buonaparte, che cambiarono nome in Buonaparte quando si trasferirono dopo qualche anno a Sarzana in Corsica, non può che in Toscana essere un po' la capitale delle manifestazioni che ci sono per i 200 anni alla scomparsa Napoleone.